A San Severo non sembra volersi fermare il lungo periodo di paura. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati la notte tra sabato e domenica contro due automezzi dalla polizia del reparto prevenzione crimine che da alcuni giorni sono in città per un controllo rafforzato del territorio, disposto in seguito a numerosi episodi di criminalità verificatisi nell'ultimo mese. I colpi sono stati sparati mentre i mezzi erano in sosta dinanzi ad un albergo nei pressi della stazione ferroviaria. Si indaga per accertare i motivi del gesto su cui al momento la questura non formula ipotesi specifiche. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Miglio era stato a Roma per un incontro con il ministro dell'interno Marco Minniti per l'emergenza criminalità. Miglio insieme alla sua giunta per tre giorni aveva fatto lo sciopero della fame. Intanto è stata ritrovata l'auto utilizzata da colui che aveva esploso i colpi di pistola contro il mezzo della polizia.